Ecco un'idea particolare per servire le tue uova Cuoci le uova in acqua bollente salata per 9 minuti Aggiungi anche due fette di limone così si apriranno più facilmente Intanto frulla le rape rosse precotte con acqua e un goccio d'aceto Attenta a non macchiarti eh Io ho capito subito Buono però Scola in acqua freddissima Ora con un coltello rompi leggermente il guscio E ora tuffa nella rapa rossa Mentre lo fai pensa a qualcuno che ti sta molto antipatico Copri con la rapa rossa Fai riposare un'ora Sono pronto per sciacquarle Ora togli il guscio Guarda che belle Ora a metà I tuorli mettili nel bicchiere del frullatore Succo di limone Sale e pepe Monta aggiungendo olio d'oliva a filo Due ricette Capperi E tonno sott'olio Metti tutto in una sac a poche Un capperetto Guarda che belle E so pure buone Prova a farle anche tu e facci sapere cosa vuoi vedere nella...